Una a due giorni di rievocazione storica per celebrare una tradizione che getta le sue origini nel Medioevo. Si tratta dell'antica fiera di San Leone che è stata presentata nella Sala degli Specchi del Comune di Bitonto. Una fiera che ha caratterizzato questa città, l'ha caratterizzata per secoli, per molti secoli, quantomeno dal 1100 fino praticamente al XIX secolo. Noi rappresenteremo una parte, una fase storica, quella che va poco prima del Rinascimento. Ovviamente non abbiamo l'ambizione in questa prima edizione della rievocazione di essere perfetti, ma di lanciare questa idea e la sua attuazione per inserirci stabilmente in un'offerta culturale innanzitutto, ma anche economico-turistica della città. Il 6 e 7 aprile all'interno della Villa Comunale ci saranno spettacoli, danze, cavalieri e nobildonne che ci riporteranno indietro nel tempo. Non sarà soltanto una sfilata, dicevo, ma proprio rappresenterà un momento importante di integrazione tra l'autorità civile, in questo caso del periodo angioino, e l'autorità ecclesiastica dell'epoca. Nello scambio, in determinati segni, in determinati momenti che vedranno anche alcuni, l'evocazione di esponenti di famiglie nobili bitontine. Poi ci saranno scene interpretate dai ragazzi delle scuole, la scuola di Ceoclassi o l'Istituto Derenzio per quest'anno, poi negli anni prossimi amplieremo anche agli altri istituti scolastici, che rappresenteranno delle pratiche commerciali, innovative, avvenute proprio durante gli anni della Fira di San Leone, già a quell'epoca. Rappresenteranno un matrimonio medievale, ci sarà un accampamento medievale dell'associazione, curata dall'associazione Impuratus, che è esperta proprio di rievocazioni storiche, anzi è tra le associazioni più rinomate anche per rigore storico, nelle rappresentazioni rievocative storiche. Grazie a tutti i nostri spettatori